Ciao a tutti e benvenuti a questa serie di tre video dove parlerò di Batman, partendo dalla Dark Knight Trilogy Tumblr Lego, passando a due figure della DC Direct e finendo con un Batman Ash della Mafex. Partiamo proprio dalla Lego, Tumblr che si è vista fin da subito nel primo film. Io ho già avuto una Tumblr, una Batmobile, purtroppo ho preso un bootleg e devo essere sincero era fatto veramente bene, complicatissimo da montare, però una bella figura, le minifigure facevano un po' schifo però giustamente era un bootleg. Finché non ho visto questo set e ho deciso di comprarlo perché è una delle Batmobili che preferisco, nonostante non sia effettivamente una Batmobile ma più quasi un carro armato. Guardiamo insieme la scatola. Allora, simbolo della Lego, Dark Knight Trilogy, simbolo della serie trilogia di Nolan. Le immagini davanti mostrano la Batmobile con le due figure che troverete all'interno. Dark Knight, il retro è bellissimo perché mostra una scena di attacco tra Batman e lo spauracchio. Questo set ha la bellissima qualità di avere una maschera a versione demoniaca da poter cambiare a Batman per quanto riguarda poi le crisi che lo spauracchio ha quando è sotto effetti dei suoi allucinogeni. Scatola bella, colori accesi, niente di particolare nel senso che è una scatola Lego come quelle che abbiamo sempre visto. Adesso andiamo a vedere quella che è la Batmobile. Vediamo che la recupero perché l'ho già montata e eccola qua. Aspetta che spostiamo un po' la scatola o la eliminiamo del tutto così vediamo bene quella che è la Batmobile. Eccola qua. Allora, oggettivamente è molto più piccola della versione bootleg, però molto molto più caratterizzata e molto più efficace a impatto visivo, nel senso che è molto molto più simile a quella del film. All'interno, non so se si vede, proviamo, ci sono due posti a sedere, quindi ci stanno all'interno due minifigure. È bella resistente, nel senso che è un pezzo molto molto solido. Le ruote girano benissimo, cosa che nel bootleg non succedeva. Ci ho messo a montarla circa 30 minuti, è di ottima qualità, i dettagli sono fini, molto bella. E adesso invece passiamo alle minifigure. Allora, spauracchio. Viene dato in dotazione uno spauracchio. Eccolo qua che l'ha messo a fuoco, guardate che bello. Con una pistola che probabilmente dovrebbe lanciare il gas. Ha una faccia sola, dietro è la versione della maschera strappata. E questo è lo spauracchio. Ma invece passiamo a quella che è, secondo me, la figura più carina e iconica. Anche perché, a differenza delle altre, hanno utilizzato il costume del primo Batman, cioè di Batman Begins, che è quello che preferisco. Nel senso che la seconda versione dell'armatura a me oggettivamente non fa impazzire. Però questa invece mi piace tanto. L'unica cosa che mi dispiace è che il casco sia ancora quello della versione Lego. Mentre in Batman v Superman, o quando fanno il Batman, diciamo, New 52, è quella versione dove è aperta qua sotto, leggermente più bassa e che secondo me è anche molto più bella. All'interno troverete dei Batarang, due, la testa demoniaca e troverete anche un rampino. Un rampino che a me sinceramente non è piaciuto per niente. Devo essere sincero. E quindi niente di più, niente di meno. 30 minuti per costruire questo bellissimo set. Una bella Batmobile. Spero di potervene far vedere altre più avanti. E intanto vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ricordate, con le due figure DC Direct 30 cm. 1.6. Alla prossima! Ciao!